Finalmente nasce anche in Italia un progetto pilota, Green Tourism Italy. È partito pochi mesi fa, ma pare che ci siano già un buon numero di strutture turistiche di Cervia, Ravenna, San Mauro Pascoli, Bellarigia Marina, Pennabilli, che hanno apprezzato la proposta presentata e si impegnano di iniziare un percorso sostenibile. Ne parliamo col nostro ospite Luigi Rambelli, buonasera, benvenuto. Buonasera. Responsabile del progetto Green Tourism. Turismo verde o Green Tourism offre una guida indipendente per le imprese che vogliono operare in modo sostenibile. Ha più di 2000 membri nel Regno Unito, Irlanda e Canada e in realtà è il più grande e più affermato programma di classificazione sostenibile nel mondo. Allora il percorso italiano come nasce? Nasce da una richiesta dei dirigenti responsabili che hanno messo in piedi, sono stati fondatori di Green Tourism, partendo da Pert in Scossia, quindi da una zona che turisticamente ha le sue ragioni d'essere, le sue qualità, che noi conoscevamo già, loro conoscevano anche le nostre esperienze, la nostra attività svolta nel passato e ci hanno chiesto la disponibilità a partire con un progetto pilota in Italia. Abbiamo concordato insieme di fare un progetto pilota perché i criteri e le misure da attuare che sono stati inizialmente in Gran Bretagna debbono essere adeguate alla situazione italiana, anche perché stiamo parlando anche di aderenza alla legislazione, alle normative e non sempre sono uguali le situazioni. Quindi siete stati avvicinati voi, diciamo così, da rappresentanti di questo Green Tourism perché hanno individuato in un certo senso l'Italia, ovvero la Romagna, come un territorio adeguato. Per la verità noi abbiamo resistito un po', anche perché abbiamo avuto anche già altre esperienze e quindi non eravamo proprio propensi subito, sia io che il gruppo che lavora con me, a fare altre cose in questo senso. Sono molte le iniziative che si autodefiniscono ecologiche, ma in realtà poi non lo sono o perché non interessa o perché non fanno controlli e quindi eravamo abbastanza timorosi, volevamo vedere esattamente, li conoscevamo già, qualche affidamento lo avevamo, dopodiché abbiamo verificato con loro il loro modo di operare e quindi abbiamo deciso un paio di mesi fa di metterci alla prova facendo un progetto pilota, quindi prendendo un certo numero di imprese, scegliendo una zona omogenea in modo da poter avere una possibilità di dialogo e di interlocuzione con gli operatori anche per vedere gli adeguamenti che dovevamo fare a certe misure. E con la Romagna dove il turismo ha delle fondamenta molto importanti anche per quello che è l'economia del territorio, come state procedendo? In che cosa consiste questo progetto? Per la verità la scelta della Romagna dipende anche da pareri che abbiamo sentito, anche di operatori turistici inglesi e poi da operatori turistici italiani per capire i vari punti di vista. L'idea che ci è stata suggerita è quella di prendere atto che il mercato inglese sta cercando in Italia un'alternativa alla Toscana. Quindi c'è una richiesta diciamo? Sì, il mercato inglese sta cercando un'alternativa alla Toscana che ormai è molto infassionata, ha alzato molti pressi, a volte non c'è un risultato come nelle attese e quindi ci è stato detto noi pensiamo che la Romagna possa avere le carte in regola per svolgere questo tipo di funzione. Dopodiché abbiamo discusso con alcune delle persone che conoscevamo già per capire se era un'opinione condivisa. Devo dire che non sono mancate le perplessità anche negli operatori perché il mercato inglese in quest'area non è molto sviluppato. Dopodiché noi ci proponiamo di svilupparlo. Ecco la Romagna, no? Si è sempre distinta per la professionalità dell'accoglienza, no? Una terra insomma che è di accoglienza, ha fatto il suo ragion di vita e ha saputo anche in un certo senso mantenere un equilibrio tra il turismo e l'ambiente naturale. Ecco però a che punto stiamo? Insomma si riuscirà poi a mantenere, perché qui parliamo di turismo verde, no? Turismo sostenibile. Quindi quali sono i requisiti poi per partecipare, per andare avanti in questo progetto? Se qualche anno fa parlare di turismo verde era essere un po' pionieri, oggi la sostenibilità è diventata una delle ragioni principali per cui un turista sceglie una destinazione. quindi non è più un settore a sé. Se parliamo di 30 anni fa gli americani avevano inventato l'ecoturismo e uno doveva stare dopo 11 mesi di consumismo eccetera per un mese doveva fare il francescano. Poi mi hanno detto che i francescani non è che stessero molto a regime. Non si faceva mancare niente. Non si faceva mancare niente. Diciamo doveva fare un po', tirare le cinghie per un mese per riparare i danni che aveva fatto negli 11 mesi precedenti ed è una cosa che non ha molto funzionato, in poco tempo è precipitata come proposta. in realtà oggi il turismo può avere un futuro se ha caratteristiche che sono rispettose dell'ambiente ma che sono confortevoli, che non sono più quelle del turismo di massa degli anni 50-60. oggi la qualità si trova anche avendo un'alternativa alla vita di ogni giorno nelle città, allo stress e quindi in sé l'essere in un ambiente naturale gradevole è un elemento di forza e di qualità anche per le strutture recettive oltre che per le qualità. Ecco per questo naturalmente il nostro territorio può vantare delle zone molto belle, molto interessanti ma lei parlava di qualità, abbiamo anche una grande eredità culturale, anche questo aspetto molto importante, la storia, ad esempio Cervia mi viene in mente, si fonda sulla storia delle saline, questi sono cose molto importanti, aspetti importantissimi per costruire poi un percorso sostenibile perché si parla di natura, territorio ma anche storia, cultura e no gastronomia. La chiave di volta della Romagna è questa, avere una professionalità turistica che ha consentito sia i riminesi che ad altre aree di insegnare ad altre aree del mondo, non solo dell'Italia, ne ho girato un po', anche in Italia si trovano dappertutto dove ci sono delle situazioni turistiche di eccellenza, delle origini riminesi, oricionesi, nel Gargano, in Abruzzo, nelle Marche, all'isola d'Elba, in Sicilia, per parlare dell'Italia, per non parlare di Cuba o di Charme Sheik, ci trovano riminesi dappertutto, perché c'è una professionalità che vale, la Romagna però è in grado di avere anche altri elementi, nel senso che la chiave di volta è la capacità di integrare i percorsi turistici tra mare e collina, tra momento del divertimento e musei, avere un'area che è in grado di dare tutte le risposte, perché non è che esiste il turista che va solo nei musei, poi magari va anche a ballare la sera. Quindi integrare vari aspetti, no? Integrare vari aspetti, cioè il turista trovarsi in un territorio vivibile, in un territorio che pur avendo avuto qualche problema dal punto di vista della cementificazione, ha avuto la capacità di, ha anche la capacità di avere zone come il Parco del Delta o come la collina le valli del Coca, le valli della Val Marecchia, il Penino Forlivese, Ravennate, Molese, sono tutte zone che possono giocare di integrazione. Ecco, questo percorso, ci sono varie strutture, adesso lei ci dirà poi quante di queste strutture hanno aderito, in che cosa consiste? C'è, se non mi sbaglio, questo Green Tourism è un modo di certificare, no? È un modo, è una certificazione per le imprese turistiche, quindi ogni impresa in un certo senso si deve impegnare ad intraprendere un percorso di sostenibilità. L'operazione viene fatta in questo modo, fra un paio di settimane avremo un primo incontro per spiegare quali sono i criteri e il percorso e per cominciare a discutere sulle cose che, per esempio, ragionando anche con gli albergatori che hanno aderito, le cose che dobbiamo modificare per corrispondere, per avere un risultato migliore in Italia, per esempio, non so, nei criteri inglesi c'è qualcosa che dice come si fa bene a fare il padding, come si deve fare il padding, per me, che l'ho sentito, l'ho assaggiato una volta, ne ho avuto già abbastanza, anche se non lo si spiega agli albergatori, forse magari... Beh, magari in Romagna si farà la crostata, la crostata con la marmellata o un'altra cosa, no? Per tutto il genere, ma le cose partono da questo, già chi aderisce ha firmato un codice di condotta sul rispetto delle normative, per cui deve essere scontato che ciò che è normativa viene applicata, sul rispetto delle diversità di abilità, avere una situazione che, diciamo così, tiene conto che esistono nel mondo persone disabili che hanno diritto di fare le vacanze come le altre, quindi l'albergo deve essere in grado di far fronte a problemi di questo tipo, naturalmente nell'ambito delle normative esistenti, sul fatto che non c'è la discriminazione, diciamo, di rassa o di colore, cose di questo genere fanno parte del codice di condotta. Poi ci sono una serie di problemi che riguardano, una serie di misure che riguardano i risparmi energetici, i risparmi idrici, quindi il modo di produrre, di acquistare, il tipo di acquisti, il modo in cui servire il cliente o ragionare col cliente sui modi di viaggiare, sulle possibilità che ci sono, sulle facilitazioni che ci possano essere, ma l'etichetta in questo senso, l'etichetta ecologica e di qualità è un'etichetta che si propone di far risparmiare l'operatore, sia con azioni di gestione, ma anche con azioni di ristrutturazione. E nell'ambito di una serie di misure, ci sono 10 sessioni di cose da fare, nell'ambito di queste 10 sessioni ci sono una serie di misure delle quali un operatore può farne 5, 6, 7, scegliendo lui magari quelli che già sta facendo, per metterle in luce, per valorizzarle, nel mio albergo queste cose qui le facciamo già. E sulla base di questo gli si dà un punteggio. Una certificazione, diciamo. Una certificazione che questo è, può essere certificato bronzo, argento, oro. Un po' come la certificazione di una stella, due stelle, tre stelle, quattro stelle, ma in un certo senso legato alla sostenibilità, no? Legato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle cose che si fanno, cioè alla comunicazione anche al cliente di ciò che si fa. Però questo non è solo una cosa, non è un, diciamo così, uno strumento che serve solo per verificare che cosa c'è, ma anche per fare in qualche modo da consulente all'operatore per dire secondo noi potresti fare questo, oppure non hai valorizzato questo che abbiamo visto che c'è, cerchiamo di valorizzarlo nei modi dovuti. Per esempio valorizzare il fatto di avere una certificazione che è la stessa che c'è a Londra o che c'è a Edimburgo o nello Stato di Colombia in Canada. Parliamo della più grande e affidabile etichetta di turismo sostenibile a livello internazionale, green tourism che nasce in Gran Bretagna e adesso anche l'Italia si accinge a diventare una destinazione green di punta, no? Una cosa che ci sembra del tutto normale visto la bellezza, la qualità dell'Italia, del territorio, tra storia, cultura e no gastronomia abbiamo tanto da offrire. Lei diceva prima, il progetto è partito da pochi mesi, quindi i risultati ci vorrà un po' di tempo per vederli. Intanto si tratta di inventariare ciò che si sta già facendo e che magari l'albergatore lo fa ma non sa che può avere un valore raccontarlo e farlo conoscere al mercato turistico. Io mi permetto di sentire perché noi sono un paio di anni che facciamo questa transizione e quindi giriamo anche per le strutture ricettive, balneari eccetera, sono abbastanza pochi ancora diciamo così le strutture che prestano abbastanza attenzione al discorso ambientale, l'energia pulita ma non solo, anche le materie a chilometro zero eppure il nostro territorio potrebbe offrire tanta qualità in questo senso. Che siano ancora poche è fuori discussione, per noi sono sempre poche. Quanti sono? Le strutture aderenti ad oggi sono 30 ma non ne abbiamo cercate molte. Abbiamo naturalmente dato un'occhiata a come sono ancora senza vederle, qualcuno la conoscevamo già, naturalmente non hanno delitto le strutture peggiori, la metà degli alberghi che hanno delitto sono di 4 stelle e in genere sono strutture che già sul mercato si comportano in un certo modo, per esempio non sono strutture che corrono dietro al tour operator che cerca il prezzo è stracciato. Ecco qui entriamo in una questione che è molto delicata ma in realtà è la vera questione, perché c'è i giganti del turismo, ci sono le condizioni per evitare a concedersi a questi grandi operatori che poi non fanno altro che stracciare i prezzi, abbiamo visto anche in questi ultimi anni che cosa è successo qui in Romagna. Eh sì, questo è vero, perché se partiamo per esempio dal rapporto con le cosiddette agenzie online, cioè quelli che tu clicchi e prenoti, naturalmente non gratis. Se parliamo delle false promozioni, delle false recensioni, se parliamo delle percentuali richieste per poter piazzare sul mercato il tuo prodotto, è chiaro che questa operazione qui è molto simile a quella degli ipermercati, potremmo parlare degli online come ipermercati del turismo. Questi cercano di avere il prezzo più basso da parte degli operatori turistici veri, da parte degli alberghi, dei campeggi, per poi rivenderli al prezzo più alto al cliente. Però ecco, diciamo che le imprese turistiche che aderiscono a questo genere di offerte, poi alla fine perdono anche l'autonomia, perché dipendono in un certo senso, come giustamente l'esempio che lei ha dato benissimo, l'ipermercato, ovvero la grande distribuzione, per un territorio come il nostro, dove l'economia dipende moltissimo dal turismo, che cosa bisogna fare? Devo dire che i segnali di una marcia indietro ci sono, ci sono albergatori che preferiscono avere 5 stanze vuote, piuttosto che avere l'albergo pieno a un prezzo della metà, o pagare il 30% di tangente all'agenzia. Ma questi segnali ci sono anche nel commercio. Certo, però ecco, diciamo, in questo senso io intravedo un'opportunità, perché la green economy o la sostenibilità vuol dire anche più qualità nel servizio, vuol dire un certo tipo di servizio che comprende, non so, percorsi naturalistici, piuttosto che un'offerta diversa e quindi questo potrebbe essere anche una chiave di svolta per il nostro turismo, orientarsi verso questo modo di operare. Io ho visto negli anni diverse ricerche di mercato, oppure i monitoraggi fatti dalla Banca d'Italia o dal DOCS alle frontiere, chiedendo ai turisti per quale ragione erano avuti in Italia, cosa che si può trovare anche nell'agenzia di viaggi all'estero, chiedendo ma perché chi sceglie l'Italia sceglie l'Italia? La risposta è è bella, c'è un bel paesaggio, un buon ambiente, ci siamo dato un po' da fare a distruggerlo ma non ci siamo gli usciti, è ancora bella. Monumenti, patrimonio culturale di prima grandessa che è indiscutibile, si mangia bene, la gente ti accoglie volentieri, il presto arriva dopo e quindi la strada per il rilancio del turismo è puntare su queste cose. Il senso di questa operazione è quello di un rilancio del turismo italiano che invece scegliendo di stare con il tour operator e avendo una situazione in cui ci si arrende a questi strumenti significa perdere professionalità, perdere autonomia perché tu devi fare presti più bassi quindi qualcosa devi togliere della qualità e quello non è il rilancio del turismo, significa precipitare. Con lei diceva prima della pausa che tra gli obiettivi del progetto pilota c'è anche quello di testare e adeguare gli standard britannici per il mercato italiano. Certo, perché l'Italia ha delle sue caratteristiche, per esempio in Italia ci sono di più degli alberghi stagionali in Gran Bretagna, pochissimo anche per ragioni molto evidenti e quindi bisogna tenere conto di questi aspetti. Poi l'Italia è il paese del sole, quindi anche certe operazioni sul modo di riscaldare gli ambienti vanno tenute presenti, sono fatti passi avanti notevoli, però ce ne sono ancora da fare, soprattutto però è il ragionamento sul risparmio che è poco diffuso, lo fanno gli albergatori più sensibili, più veduti che hanno maggiore magari i migliori consulenti. Nel risparmio il consumo d'acqua, l'energia, se parliamo di cose importanti. E d'altra parte c'è anche un altro problema, come l'albergatore magari sempre con noi si organizza, si mette in moto per cercare di rendere migliore anche la località, perché poi prima dell'albergo si sceglie la località e se la località è brutta non è che ci possiamo riparare facendo un intervento sull'albergo, perché rimane brutta. Non è che uno sceglie un bel albergo sotto il ciminiere di Porta Marghera. Insomma è una questione piuttosto complessa, perché bisognerebbe riuscire anche, non solo riuscire a dare una migliore vivibilità, ma poi dopo ci sono il discorso trasporti, mobilità, quindi andiamo a finire in un discorso molto complesso, ma come lei diceva prima, la green economy o il turismo è un modo di vivere, è una cultura. Potremmo sintetizzare con una frase che ho sentito dal direttore degli Castelli e Relais d'Italia, d'Europa, che diceva, la domanda era, come deve essere una città turistica? Città turistica deve essere una città in cui i residenti vivono bene.